Grafici, fumettisti, artisti, musicisti della MAD hanno aperto nuovi orizzonti ai film d'animazione in Italia e con Gatta Cinerentola hanno conquistato anche due Davide di Donatello, una factory con anima ed identità partenopea ma respiro internazionale. Li abbiamo incontrati negli studi di Piazza del Gesù, nel cuore di Napoli, con Luigi Carbone. Nel cuore di Napoli, negli ampi spazi di Palazzo Pandola, consacrato al cinema da Vittorio De Sica con Matrimonio all'Italiana e l'Oro di Napoli, una squadra di disegnatori, artisti, registi sta rivoluzionando l'animazione italiana con idee, fantasia, gusto per la sfida, sensibilità estetica e senso pratico. Qui ci sono gli studi della MAD, acronimo di musica, animazione, documentari, la factory che in cinque anni ha prodotto due lungometraggi d'animazione dalla forte identità partenopea e al contempo dal respiro internazionale come dimostra la loro distribuzione. L'arte della felicità è Gatta Cenerentola, flusso di coscienza in dialogo con la città e i suoi personaggi il primo, visionare a rivisitazione della favola di Basile il secondo, entrambi considerati dalla critica prodigi d'inventiva. Gli animatori, una ventina in tutto, sono protagonisti di un'esplorazione continua. Noi siamo una squadra molto piccola per essere una squadra che si occupa di lungometraggi d'animazione, cioè nel senso che siamo nella misura dell'1 a 10 se non meno rispetto ad altre grandi produzioni di lungometraggi. Operare con budget contenuti spinge ad affinare l'ingegno, a sperimentare e inventare ogni volta nuove tecniche e soluzioni. Per Gatta Cenerentola siamo dedicati anche allo sviluppo software, abbiamo iniziato utilizzando Blender, che è un software open source, gratuito. Gli utenti si scambiano informazioni in maniera aperta, pubblica, quindi tutte le modifiche che abbiamo fatto sono state viste, sono state richieste dalla fondazione che gestisce il coordinamento del programma, adesso fanno parte della lista ufficiale da circa un anno. E non pensi che a un certo punto qualcuno si ribellerà, solo se qualcun altro gli toglie i telefilm. Napoli è determinante per aver fatto questo, perché c'ha un modo di lavorare che riesce a lavorare anche in maniera ficcante e determinante, però poi c'ha la capacità di stupirsi, di rilassarsi e quindi di mantenere buono l'umore. La città, livida, apocalittica, magmatica e disperata, è protagonista, in modo diverso, in entrambi i film. Ne alimenta la poesia intima ed esplosiva. Ogni personaggio ha numerose anime e lo specchio della sensibilità di più creatori in un progressivo affinamento di estetica, sembianze, movenze, carattere. Inizialmente diciamo che sono un po' come Pinocchio, sono dei burattini che man mano che andiamo ad esplorare psicologicamente cominciano ad acquisire una vita propria. Gli animatori lo definiscono, i doppiatori lo definiscono, l'attore quando è lì e lo interpreta per la prima volta lo crea insieme a noi il personaggio. Nella nostra idea la sceneggiatura è sempre un po' un canovaccio rispetto a quello che poi verrà fuori, quindi deve rimanere aperta sia le contribuzioni di animazione sia in qualche maniera alle intuizioni che possono venire all'attore. Io mi chiamo Pinocchio perché i miei volevano una famiglia numerosa, ma poi sono morti giovani. Allora a quel punto il personaggio lo si può sentire in cuffia parlare e quando ha una voce e quando esprime i suoi contenuti e tu lo senti attraverso una cuffia e a quel punto è una persona. Perché io non voglio delare, io non l'ho votata questa realtà. Anche noi in qualche maniera filmiamo i nostri movimenti, per esempio con le Kinect perché abbiamo fatto anche un po' di motion capture questo film, cioè significa in pratica riprendere i movimenti delle persone dal vero e riportarli sui personaggi. E lei è tirchia, tecchia, tecchia e tirchia. La musica ha un ruolo centrale, motore dell'azione e sonda emotiva. La musica accompagna anche tutto il processo creativo e produttivo dei nostri film. Molto spesso ha anche la capacità di indirizzare determinate scene o di intervenire proprio sulla sceneggiatura. E adesso abbia inizio la vera festa. Per il film Gatta Cenerentola. Gatta Cenerentola, già selezionato dall'Academy per gli Oscar 2018, è stato il primo lungometraggio d'animazione a concorrere nella cinquina dei Davide di Donatello per il miglior film e ha conquistato due statuette particolarmente significative, quella per il miglior produttore, a Maria Carolina Terzi per Rai Cinema e Luciano Stella per Mad Entertainment. Questo premio è il riconoscimento secondo me di questo lungo lavoro e di aver aperto una finestra particolare che in Italia è possibile fare animazione. E il produttore torna, come io penso debba essere un produttore, a fare il trainer, l'allenatore, cioè quello che fa venire fuori i talenti, non quello che si impone ai talenti. Quindi l'allenatore deve avere l'abilità, anche l'elasticità, di far emergere in loro la loro passione e la loro voglia. E questo è avvenuto. Missione compiuta. A testimoniarlo è l'altro David, assegnato all'intera squadra di Mad per i migliori effetti digitali. Abbiamo inventato questo ibrido 2D, 3D mischiato e quindi tutte le persone che lavorano all'interno del nostro gruppo, diciamo, di artistico-tecnico hanno tutti quanti partecipato. Quindi effetti digitali, mai come in quel caso, è stato proprio un premio condiviso da tutti quanti. Negli studi della Mad si lavora ora al terzo lungometraggio con la regia di Rack, con l'intenzione di raggiungere un pubblico sempre più ampio, catturando non solo le generazioni cresciute guardando animazioni di ogni tipo, ma anche quelle over 50, abituate a considerare l'animazione un genere per bambini.